Debiti e spreghi in regione mentre la prossima settimana proderà Palazzo d'Aimmo il bilancio per le opposizioni serve un cambio di passo della politica. Il Ministero dell'Istruzione finanzia il comune di Torrella del Sannio per un impianto di areazione meccanica da installare nelle aule della scuola dell'infanzia. In diverse località della regione domattina si svolgeranno celebrazioni per ricordare il giorno della liberazione dell'Italia dai nazifascisti nel 1945. Riprenderà domani alle ore 16 il campionato di eccellenza regionale di calcio. Solo sette le formazioni e i nastri di partenza. La vincente avrà un posto in Serie D. Ben trovati gentili telespettatori. Come dicevamo dai titoli, da lunedì il Molise torna in fascia gialla. Cambiano le regole per la ristorazione e negozi che potranno riaprire secondo nuove regole. A darne notizia il Ministero della Salute. Il Molise da lunedì torna in zona gialla a darne notizia il Presidente della Regione Donato Toma che ha avuto l'ufficialità dal Ministro della Salute Roberto Speranza. L'unico dato che è ancora oltre il limite e fa temere per un ritorno a quella arancione riguarda l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva che è ancora al 33%. Si va così verso il lento ma progressivo alleggerimento della stretta che ha caratterizzato il periodo pasquale e le settimane successive. Restano confermate però le consuete zone rosse e arancioni e sono ripristinate quelle gialle. In queste ultime aree riaprono i servizi di ristorazione, seppur all'aperto e nei limiti degli orari stabiliti per il coprifuoco, fissato sempre alle 22. Le nuove regole che dovrebbero valere fino al 31 di luglio, salvo successivi ripensamenti, sono contenute in un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 aprile. Si allenta la morsa sugli spostamenti, anche se per quelli tra regioni rosse e arancioni occorrerà essere in possesso di un certificato verde. Resta consentita senza limiti di orario invece la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitazione ai propri clienti. E altri 11 casi di positività al coronavirus sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore a Boiano ma sale anche il numero dei pazienti guariti, in totale poco meno di 12.000 persone. Il tasso del contagio è salito in Molise al 10%. Nel frattempo sono circa 105.000 le dosi di vaccini somministrate in Regione, ovvero il 90% delle 116.000 fiale consegnate. Circa un mese di tempo per realizzare all'ospedale di Isernia sei nuovi posti letto di terapia intensiva per assistere i pazienti affetti dal virus. Il modulo del Veneziale verrà utilizzato come area grigia, una estensione del pronto soccorso, ma le problematiche restano e sono legate essenzialmente alla carenza di personale medico. Appena 4 gli effettivi rimasti e la capacità di smistare rapidamente i pazienti. Cambiamo argomento, siamo alla politica. Debiti ingenti continuano a segnare la Regione Molise. Per il Movimento 5 Stelle bisogna guardare al futuro e rispettare gli impegni assunti in passato. La Regione si avvicina alla sessione di bilancio. Un momento importante se non fosse per i debiti. 500 milioni di euro, sottolineano gli esponenti del Movimento 5 Stelle a Palazzo Daimmo. Ci sono debiti ingenti che devono venire a galla, aggiungono come 7 milioni dovuti a molise dati, o peggio, 40 milioni di sanzioni e interessi sui debiti previdenziali delle gisciolte ASL. Una caccia alle streghe per capire chi ci abbia portato nel baratro. E se il Governatore Tomea pensa ci siano gravi colpe sul debito molisano, faccia i nomi e denunci. Sicuramente c'è mancanza di trasparenza amministrativa, anche nei confronti degli organi preposti alla vigilanza sulla regolarità contabile. È lo stesso Collegio dei Revisori a segnalarlo, bocciando il bilancio previsionale 2021-2023. Non finisce qui. Nel documento di Economia e Finanza regionale si dovrebbe disegnare il percorso da seguire negli anni a venire. Un'idea di dove si vuol portare la regione, eppure non vi si trova un solo impegno che parli di transizione ecologica. Un fiume di denaro arriverà in Molise con il Recovery Fund, ma il Governo regionale sembra incapace di sfruttare le enormi potenzialità della transizione energetica, ecologica e ambientale. Mancano un piano paesaggistico, una legge urbanistica, un piano di difesa del suolo, un piano cave, un piano rifiuti aggiornato. In sessione di bilancio, rimarcano i pentastellati, vogliamo portare proposte chiare proprio in tema ambientale. Si deve fare rete, investendo anche nella transizione digitale, nell'informatizzazione della pubblica amministrazione, nello sviluppo culturale e nel turismo sostenibile. La sensazione però è che si sia intrappolati in politiche da altri tempi, in sprechi e mancanza di prospettiva. Si attende ancora la definitiva chiusura delle comunità montane, che, in liquidazione da oltre un decennio, continuano a gravare sulle tasche demolisani, poi le auto blu, gli stipendi da capogiro e vari rimborsi. Torneremo a proporre, concludono i portavoci del Movimento 5 Stelle, un taglio decisivo ai costi della politica. Faremo il possibile affinché gli impegni presi in precedenza vengano rispettati. Passiamo alla cronaca. I carabinieri della stazione di Mirabello Sannitico hanno denunciato un 54enne di Ferrazzano per ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni nella sua abitazione. Le verifiche hanno consentito di rinvenire all'interno della casa, una balestra da caccia e frecce con punta in acciaio, una carabina ad aria compressa con proiettili, una pistola ricaricabile e numerose cartucce da caccia. Il materiale è stato sequestrato dagli uomini dell'arma. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso. Sistema Iorio. Ancora una volta l'ex governatore si ritrova ad avere a che fare con la giustizia, l'esponente di centrodestra. Però manifesta serenità. Ascoltiamolo in questa intervista. Aver fatto per 23 volte delle cause che si sono concluse alcune proprio assurde, altre dopo dibattimenti, dopo anni di discussione, con assoluzione, con formula piena. Cioè significa che la formula piena rappresenta la decisione dei giudici che il fatto contestato non esiste, o meglio, non sussiste per dire il termine esatto. Questa è la ventiquattresima. È stata lunga, sono dieci anni di discussioni e le posso assicurare che terminerà allo stesso modo di tutte le altre, anche perché ho ascoltato solo degli equivoci, delle malevoli interpretazioni di telefonate, di discussioni tra altre persone non direttamente con me, da cui si sono ricavate ipotesi di reato innovative, peraltro assurde, come la corruzione della linea editoriale. Cioè sembrerebbe che una regione che finanzia le TV, se le finanzia, lo fa per voto di scambio o per avere appoggi elettorali. E questo metterebbe in crisi l'intero sistema nazionale o internazionale, se dovesse essere così. La corrispondenza tra un finanziamento e il risultato elettorale alla comunicazione credo che sia ardita come ipotesi. Ma in questo caso nemmeno questo c'è stato. Ma voglio dire, io credo proprio che questa questione verrà chiarita con serenità, ma insomma nel momento opportuno. C'è stata una fase in cui, quanto lei aveva posti di maggiore responsabilità, c'erano persone che oggi sì e domani pure le denunze le facevano. Un po' quello che è successo a Berlusconi. Ma sì, io ho avuto tante denunze, sia da politici, oppositori naturalmente, e sia qualcuna come questa nata, non si sa da chi e da cosa, perché anche questa causa che sto facendo non è conseguente ad una denuncia, ma è un'attività libera che è iniziata così occasionalmente ascoltando qua e là qualche intercettazione che mi coinvolgeva e quindi è iniziata l'indagine. Ma voglio dire, io sono assolutamente sereno, non ho nessun timore, nessuna ansia, perché avendo la coscienza apposta, credo che in questo Paese ci sia sempre alla fine qualcuno che giudica con serenità e con raziocinio. Questa sera in Cattedrale a Trivento l'ordinazione sacerdotale al diacono Paolo Rossi, nativo di Montefalcone nel Sannio, dalle mani del Vescovo Claudio Palumbo. Il rito di ordinazione in diretta sulla nostra rete a partire dalle ore 18. Cambiamo argomento. Il comune di Torella del Sannio ha ottenuto un finanziamento di 25 mila euro per l'aerazione delle aule scolastiche all'Istituto per l'infanzia del Paese. Abbiamo avvicinato il primo cittadino, Antonio Lombardi. Sindaco, per la prima volta in Molise, nelle scuole molisane, un impianto di aerazione usufruibile dal prossimo anno scolastico per la scuola dell'infanzia per immettere nei locali, nelle aule, aria pulita. Una novità, dicevamo, per il Molise, un impegno suo e della sua amministrazione con fondi direttamente dal Ministero dell'Istruzione. Abbiamo fatto domanda a settembre scorso per questo abbiamo fatto il progetto. L'ingegnere, il mio responsabile tecnico, l'ingegnere Barilone, ha programmato e progettato questo impianto di areazione meccanica alla scuola dell'infanzia. Sono soldi che già teniamo sul conto, quindi già abbiamo fatto il progetto, l'abbiamo approvato, che consiste nel mettere aria dentro la scuola, aria pulita, e espellere aria cattiva e ovviamente anche qualche microbe. Quindi i ragazzi, i ragazzi dell'infanzia, stanno sereni e tranquilli, possono giocare tranquillamente come vogliono loro, perché stanno sempre con aria pulita e aria eccezionale dentro la cosa. Ovviamente le insegnanti devono, per quanto riguarda la temperatura, quindi saranno loro a manovrare, a manovrare e a mettere la temperatura ideale per i bambini. Ogni 15 giorni faccio sanificare sia tutte le scuole primarie e secondarie, elementare e materne, per capirci, nonché il comune ogni 15 giorni vengono a sanificare le scuole. Il personale, ogni 15 giorni, ogni mese, quando lo riteniamo opportuno, io ho fatto una conversione con l'ex cattore, con i gemelli a Campobas, quindi andiamo a fare il tampone. Come vaccinazione, praticamente credo che tutti gli ottani sono stati vaccinati anche con la seconda dose. Quindi so che hanno cominciato anche i settantenni, quindi diciamo che siamo tranquilli. Io avevo anche in mente di fare un'ulteriore promozione di tamponi, però stiamo andando abbastanza veloce, meno male che in questo caso la regione ci sta venendo incontro, quindi non credo di avere tanti problemi. Io devo ringraziare sempre, non mi stancherò mai di dirlo, la mia popolazione, tutto il personale, perché chiaramente abbiamo avuto sempre, c'è stato un picco, abbiamo avuto qualche positivo, ma massimo 7-8 persone. Purtroppo abbiamo avuto un solo decesso qualche tempo fa, adesso siamo a Covid free, ma ripeto, grazie veramente alle persone che sono state e stanno ancora attende. Speriamo di continuare in questa maniera con serenità e tranquillità nel mio comune. Da alcuni anni il 25 aprile è rientrato nell'alveo della verità storica e l'inizio di un percorso virtuoso che portò alla nascita di un paese libero e repubblicano, ha ricordato oggi il presidente della giunta regionale Donato Ottoma, Brigate Partigiane e Comitato Nazionale di Liberazione, soldati e alleati stranieri uniti per dare all'Italia le libertà negate dal ventennio fascista, anche il Molise ha pagato il suo tributo di vittime. Torna anche quest'anno in occasione del 25 aprile in forma virtuale la manifestazione Un fiore al partigiano in ricordo dei molisani caduti per la libertà, un pellegrinaggio civile ideato nella città di Campobasso da Nino Angarano e Paolo Morettini, il percorso toccherà domattina via Facchinetti, via Barbato, via Romagnoli, piazzale Palatucci fino al largo della memoria. ed ancora sempre nell'ambito dell'iniziativa nazionale Un fiore per il partigiano a Termoli verrà ricordato Basso Sciarretta unico partigiano termolese che fu anche noto pittore e poeta davanti alla sua casa natale via Adriatica dove la sua famiglia visse fino al 1940 alle ore 16 verrà deposto un mazzo di fiori ed una targa per ricordare la sua figura di combattente per la libertà. restiamo sempre in tema strade di liberazione questo lo slogan scelto per celebrare il 25 aprile in Molise si ricordano alcune importanti figure di partigiani a Campobasso Trivento Castropignano Porto Cannone e Termoli nel capoluogo di regione domani mattina l'inaugurazione di un murales in via martiri della resistenza. l'associazione nazionale partigiani d'italia con il contributo attivo di tante altre associazioni e comitati ha organizzato in moltissime città per celebrare il 25 aprile una iniziativa che ha chiamato strade di liberazione dove si invitano i cittadini a deporre un fiore sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate agli antifascisti e partigiani in Molise domani ci saranno altre iniziative specifiche a Castropignano alle 10 e 30 si ricorderà Michele Arcangelo De Paolo medaglia d'oro al Valor Militare a Porto Cannone alle 12 il partigiano Michelangelo Donato Vitale a Termoli alle 16 in via Adriatica 7 presso la casa natia del partigiano Basso Sciarretta ed a Campobasso alle 11 in via Martiri della Resistenza sarà svelato un murales dedicato alla lotta partigiana e realizzato dall'artista Claudia Romagnoli meglio conosciuta con il nome Croma previste le letture dei resistenti con lo storico e ricercatore Fabrizio Nocera sarà anche ricordato Gian Mario Fazzini scomparso solo qualche giorno fa figlio del partigiano Gilberto ed impegnato egli stesso nelle lotte a difesa della democrazia intanto per l'intera giornata le persone a Campobasso saranno chiamate al giro della città per le visite alle targhe in ricordo dei combattenti nella lotta di liberazione dal nazismo e dal fascismo è in occasione proprio del 76esimo anniversario della liberazione domani alle ore 10 rappresentanze istituzionali e sindacali si recheranno a Monte Marrone la manifestazione la manifestazione prevede l'omaggio al cippo funebre di Jaime Pintor al comune di Rocchetta al Volturno e l'omaggio al monumento nazionale di Monte Marrone 25 aprile è una data dalla quale non si può prescindere nel percorso di ricostruzione democratica dell'Italia che ha visto alla sua massima espressione di condivisione dei valori e degli ideali di libertà con la carta costituzionale celebrazioni annunciate domattina anche a San Salvo sulla riviera abruzzese città nella quale verrà deposta una corona dall'oro il 25 aprile è diventato un simbolo di libertà ma anche di speranza e di fiducia e adesso cambiamo argomento in linea con le disposizioni del decreto legge riaperture approvato dal Consiglio dei Ministri i luoghi della storia torneranno ad essere usufruibili al pubblico dalla prossima settimana da martedì 27 aprile saranno riaperti al pubblico i musei e i luoghi della cultura di competenza della direzione regionale musei molise il servizio di apertura al pubblico sarà garantito in forma contingentata nei giorni feriali senza prenotazione il sabato e nei giorni festivi l'accesso potrà invece avvenire previa prenotazione telefonica al museo il calendario delle aperture quelle dal 27 aprile il museo sannitico di campo basso aperto fino al 30 aprile dalle ore 8 e 15 alle 13 e 30 dal primo maggio aperto dal martedì alla domenica dalle ore 8 e 15 alle 19 il castello di capo a gambatese aperto dal martedì al sabato ore 8 e 15 13 e 30 domenica 8 e 15 19 museo nazionale del paleolitico di isernia aperto dal martedì alla domenica dalle 8 e 15 alle 19 museo nazionale del castello pandone a venafro aperto dal martedì alla domenica dalle 8 e 15 alle 19 museo archeologico di venafro aperto dal martedì alla domenica dalle 8 e 15 alle 13 e 45 il complesso monumentale di san vincenzo al volturno aperto dal martedì al sabato dalle ore 8 alle 14 domenica dalle ore 10 alle 16 il santuario italico a pietra abbondante sarà disponibile alle visite dal mercoledì del 28 aprile alla domenica dalle ore 10 e 15 alle 17 e 15 numerosi artisti molisani si ritroveranno domattina a capopasso lungo corso Vittorio Emanuele per un flash mob silenzioso musicisti ballerini attori si incontreranno per simboleggiare la volontà di rinascita del mondo dello spettacolo una manifestazione volta a simboleggiare che gli artisti sono pronti a tornare sulle scene e nelle piazze riapertura del presidio turistico di Isernia un segnale di speranza in vista di una stagione estiva che si spera dia respiro al territorio Assessore la pandemia non aveva colpito soltanto gli uomini aveva colpito anche questa bella istituzione meno male che è rinata ma sicuramente la pandemia ci ha fermati ci ha rallentati ma sicuramente non ci ha bloccati continuiamo a lavorare è un bel segnale di speranza per tutto il territorio non solo della provincia di Isernia ma anche dell'intera regione siamo tutti impegnati sul tema del turismo dove dobbiamo colmare un vuoto che è ormai di oltre dieci anni ci stiamo riuscendo l'anno scorso abbiamo avuto una grandissima presenza a livello nazionale con un sold out in tutte le strutture quest'anno contiamo di avere una stagione estiva ancora migliore di quella dell'anno scorso ci stiamo lavorando come regione siamo fortemente impegnati abbiamo varato il nuovo brand del Molise in chiave turistica stiamo pronti ormai con la piattaforma di visita Molise con un piano di comunicazione all'altezza della nostra regione stiamo dialogando soprattutto con tutto il territorio dalle amministrazioni locali agli stakeholder perché insieme riusciremo a fare un recupero su questo settore da soli non si va da nessuna parte lei ha detto che non sarebbe sbagliato mettere una succursale del suo assessorato qui a Isernia ma sicuramente è un tema questo che stiamo dialogando con il presidente Ricci la disponibilità della regione totale la provincia di Isernia merita questo ed altro perché ha delle grandi eccellenze delle grandi potenzialità che devono essere solo veicolate bene da parte delle istituzioni e da parte del territorio aumentare quella che è la qualità dell'accoglienza che è essenziale per il turismo di qualità domani alle ore 15 sulle pagine facebook di Arci Molise Maratona Social dal titolo 25 aprile spazio condiviso decine di artisti registi musicisti e rappresentanti della società civile daranno il proprio contributo a sostegno degli spazi pubblici e dell'importanza del ruolo svolto da associazioni e collettivi per la crescita del territorio e anche in Molise è lunedì protesta dei lavoratori di matrimoni ed eventi per chiedere al governo Draghi la certezza di ripartire entro il mese di maggio ormai in Italia esistono due crisi quella sanitaria e quella economica a causare il covid-19 un virus che sembra non solo non voler andare via ma anche continuare a creare disagi a causa della diffusione delle varianti l'antidoto e il vaccino ma la strada è ancora lunga per poter tornare alla vita di prima e se per ripartire ci vuole tempo e attenzione non ne vogliono più sapere di aspettare i commercianti e i possessori di partita IVA da troppo tempo fermi e con l'assenza di fondi e risorse a soffrire anche il settore delle cerimonie inutile dire che nell'anno scorso in questo non vi è stata alcuna attività a lamentarsi e a chiedere di poter tornare al lavoro in sicurezza wedding planner artisti e proprietari di locali tutto ciò che ruota intorno al mondo delle cerimonie è in agonia e per tale motivo la categoria lunedì 26 nel giorno della graduale ripresa scenderà in piazza per chiedere tutele al ritorno della quotidianità in sicurezza l'associazione che raccoglie gli operatori del settore del wedding ha così organizzato un flash mob in tutti i capoluoghi la delegazione molisana ha promosso quello di Campobasso che si terrà a mezzogiorno davanti la sede della giunta regionale oltre agli operatori economici del settore e le manifestazioni parteciperanno anche coppie di sposi al terzo al quarto rinvio giovani che non potranno festeggiare la laurea e altre cerimonie penalizzate dal divieto la situazione ormai insostenibile ha spiegato Mauro Di Salvatore capo delegazione del Molise dopo oltre un anno di inattività con conseguente calo del fatturato del 90% non possiamo assistere immobili alla totale mancanza di considerazione per il nostro settore Di Salvatore evidenzia anche come la mancanza ad oggi di una data certa per la ripartenza degli eventi preati provochi una crisi e come detto nel capoluogo molisano l'azione è prevista lunedì dopo domani al mattino con un presidio davanti alla sede del consiglio regionale in via 4 novembre siamo adesso alle previsioni del tempo la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo prevalentemente sereno oggi su gran parte del Molise dalla sera cielo stellato le temperature in risalita sono comprese fra la minima di 6 gradi a Campobasso e la massima di 20 gradi a Disernia domattina ancora sole e bel tempo lungo la regione poco monso il madre adriatico venti deboli variabili riparte domani pomeriggio il campionato regionale di calcio di eccellenza sette le formazioni che si daranno battaglia fino a mercoledì 2 giugno per raggiungere la serie D vediamo i quali sono gli incontri previsti con fischio d'inizio alle ore 16 per la prima giornata Aurora Alto Casertano Venafro Termoli Boiano Isernia Fraterna San Leucio Volturnia riposa nel primo turno il sesto Campano Medaglia d'argento per Giuseppe Maurizio atleta paralimpico dell'ASAM di Isernia che a Palermo si è particolarmente distinto durante il torneo di qualificazione ai campionati italiani di para badminton che si terranno il prossimo mese di novembre impegno e passione sono stati premiati soddisfazione anche dal tecnico Carmine Jacovella sempre al fianco dell'atleta Morisano ed era questa la nostra ultima notizia grazie per essere stati con noi buon fine settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti